Le materie oggetto delle prove del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 2004 direttori dei servizi generali amministrativi sono illustrate nell'allegato B del DM 863 del 2018 e sinteticamente sono diritto costituzionale e diritto amministrativo con riferimento al diritto dell'Unione Europea diritto civile contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche diritto del lavoro con particolare riferimento al pubblico impiego contrattualizzato legislazione scolastica ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione. Con riferimento alla valutazione della preselettiva la correzione della prova sarà effettuata attraverso procedimenti automatizzati e informatizzati. Sarà assegnato un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate fino ad un massimo di 100 punti. Il punteggio sarà restituito al termine della prova e non concorrerà alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. Sarà messo alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione e tutti coloro che hanno conseguito un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui è l'articolo 20,2 bis della legge 104 del 92. Il mancato superamento della preselettiva comporta l'esclusione dal proseguio della procedura concorsuale. Inoltre il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. Con riferimento alle commissioni che valuteranno le prove dei candidati, considerato il numero dei posti messi a concorso in alcuni uffici scolastici regionali, con avviso in gazzetta ufficiale numero 21 del 15 marzo 2019, il MIUR ha disposto l'accorpamento, sulla base della viciniorietà territoriale e della dislocazione geografica, delle commissioni esaminatrici ai fini dello svolgimento delle prove concorsuali, fermarestando la valenza regionale delle singole graduatorie. Precisiamo che le prove preselettive si svolgeranno nella regione per la quale si concorre, mentre le prove scritte e le prove orali si svolgeranno nella regione in cui è stata costituita la commissione esaminatrice. Rimane comunque fermo che le graduatorie restano distinte per ogni procedura regionale, a seconda della scelta espressa dal candidato all'atto dell'iscrizione. Per la preparazione alla prova preselettiva e alle successive prove, la tecnica della scuola propone alcuni corsi e learning e webinar su alcune tematiche delle prove. Per saperne di più visitate il sito www.tecnicadellascuola.it area formazione.